Buongiorno a tutti, sono Luciana Vendramin di Habitat Group. Oggi ci troviamo nel centro storico di San Mauro Torinese e precisamente in via Martiri, angolo via Matteotti. Quello che sto per presentarvi è un edificio riportato recentemente alla sua originaria bellezza dall'ultimo proprietario. Si tratta di uno dei pochi esempi di architettura arte co, pochi esistenti nella zona tra l'altro. E' indubbiamente molto caratteristico e suggestivo. Andiamo a vederlo insieme. L'immobile si eleva a quattro piani fuoriterra oltre ad un piano semi-interrato, collegati fra loro da ascensore interno e scala chiocciola ed è composto da al piano terra, ingresso, ripostiglio, armadio a parete intera, lavanderia, bagno con doccia e ascensore. Al primo piano abbiamo la zona pranzo con cucina vista e tripla esposizione, con finestre bow windows perfette per creare angoli di relax e di design. Al secondo piano, camera da letto con bagno padronale filestrato, presenti anche qua i bow windows. Al terzo piano, ampia sala cinema e terrazzino con magnifica vista sulla basilica di superga e sul po. Al piano semi-interrato, un locale cantina. La tripla esposizione di questo immobile e la presenza ad ogni piano del bow windows rendono questa casa estremamente luminosa oltre che suggestiva. Se avete trovato interessante questo annuncio, contattatemi e fisseremo subito un appuntamento. Ciao, a presto!